vi presento per chi si è collegato successivamente alle 10 in punto chi vi parla è Luca Nobili sono uno dei due vendor manager Fortinet qui in Exclusive Networks vi ringrazio per esservi collegati a questo webinar e oggi come sapete parliamo della partnership Fortinet e in particolare parleremo anche di come bisogna procedere nella seconda parte della presentazione per diventare partner Fortinet ora do un paio diciamo di informazioni di servizio come potete vedere, come vi sarete accorti siete tutti quanti voi partecipanti in mutuo questo ovviamente per garantire una migliore fruizione del webinar e aggiungo che per poter porre delle domande vi chiedo di scrivere all'interno dell'apposito menu che trovate in alto a destra dell'interfaccia di GoToWebinar dove c'è il punto di domanda per capirci quindi inserite pure lì le domande io al termine della presentazione vedrò di rispondere se ci fosse qualcosa poi da vedere offline ovviamente sarà mia cura ricontattarvi ora direi che possiamo partire con le slide che dovreste già vedere quindi direi senza indugio partiamo con l'agenda ora di cosa parliamo oggi prima di tutto cominceremo a vedere a esaminare perlomeno a grandi linee sul perché vi consigliamo sicuramente di diventare partner Fortinet e perché farlo con Exosive Networks per cui parleremo un po' di entrambe le aziende e vi lascerò qualche messaggio a riguardo quindi andremo nella parte un po' più tecnica della partnership con la descrizione del Fortinet Engage Partner Program e di come ci si registra quindi parleremo del Welcome Kit poi vediamo che cos'è e infine una nota importante che è collegata al Welcome Kit parleremo anche del programma Setup cominciamo subito velocemente visto che vorrei riuscire a rimanere nei 40-45 minuti massimo parlando di Fortinet che poi è il protagonista della sessione di oggi ora cominciamo con qualche dato in relazione in relazione al vendor questi dati sono non sono super recenti sono del 2021 in ogni caso ve li lascio da poter leggere visto che comunque vi manderemo la presentazione nei prossimi giorni anche la registrazione del webinar comunque sia mi preve sottolineare di questi numeri che fanno vedere come dire la grandezza e l'importanza del vendor sicuramente quello della customer base parliamo a fine 2021 di oltre 600.000 clienti Fortinet in giro per il mondo per quanto riguarda il mercato italiano qui non è indicato ma sono dati che mi ha fornito il vendor l'installato di Firewall Fortinet in Italia ed è circa il 48% cosa significa che più o meno dei fatti fatti 100 i firewall di varie dimensioni e mercato installato in Italia 48 quindi la metà sono a marca Fortinet quindi una presenza veramente molto pervasiva sul mercato lo potete vedere anche e ovviamente dai numeri di fatturato e di capitalizzazione dell'azienda azienda che esiste dall'ottobre 2000 per cui diciamo in ambito informatico perlomeno un'azienda anche dalla storia importante ma al di là di questi numeri vorrei parlare più che altro della tecnologia e dell'offering di Fortinet che è sicuramente il punto di forza ed è la motivazione principale per cui così tanti partner e voi stessi che stete seguendo questo webinar si approcciano a questo vendor una delle chiavi sicuramente di interpretazione più importanti per quanto riguarda l'offering di Fortinet è quello della convergenza di networking e sicurezza tradizionalmente networking e sicurezza sono stati due mondi separati come vedete anche questa slide abbiamo il mondo dello switching del routing della connettività wifi piuttosto che 4G 5G da un lato e dall'altro i servizi più propriamente della cyber security quindi l'analisi del contenuto piuttosto che la gestione dell'identità piuttosto che la protezione e l'accesso alle applicazioni ora la visione di Fortinet è quella di unire questi due mondi e quindi di di approcciare la sicurezza sia a livello applicativo che a livello di vero e proprio network quindi in questo caso parliamo di vero e proprio security networking che è gestito come potete vedere da un unico sistema operativo il FortiOS di conseguenza il portafoglio prodotti Fortinet non è solo ed esclusivamente basato sui sui firewall quindi sul firewall perimetrale posto che i FortiGate sono sicuramente indubbiamente il prodotto Fortinet più noto ai più ma copre tutta una serie di tecnologie quali ad esempio solo per fare qualche nome il NAC gli access point in modalità assolutamente sicura e gli switch quindi Fortinet si presenta sul mercato come un vendor che fornisce o può fornire una cyber security pervasiva e non solo quindi limitato alla parte di content security o di firewalling quindi di protezione perimetrale questa scelta di Fortinet si sta indubbiamente rivelando come vincente perché perché questa che vedete in questa slide è un po' quello che sta succedendo sul mercato e che molte aziende stanno ricercando e abbracciando e cioè un viaggio un tendere verso la riduzione delle piattaforme di cyber security all'interno dell'azienda se un po' di anni fa questa situazione che vedete qua sulla sinistra della slide cioè avere tantissimi vendor diversi come fornitore di soluzioni puntuali di cyber security era la norma qua si parla addirittura di aziende che avevano magari tutt'ora hanno anche più di 30 vendor ovviamente parliamo di aziende magari di dimensioni un po' superiori ma in ogni caso anche le piccole aziende si ritrovano si ritrovavano ad avere parecchie tecnologie sulla rete magari un fornitore per networking un fornitore tecnologico insomma un vendor per il networking un vendor per la sicurezza dell'endpoint un vendor per la sicurezza del cloud un vendor per il management un vendor per la sicurezza IoT eccetera 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 ora al momento probabilmente molte aziende sono su questa su questo livello un po' intermedio in cui è stato fatto un consolidamento in cui si sta cercando e si cerca di diminuire il numero di tecnologie presenti nella propria rete quello però che il mercato sta ricercando è questa è la situazione quindi abbiamo come in questo caso descritto la protezione delle applicazioni del network dell'endpoint il NOC e il SOC tutti basati su una o comunque poche piattaforme due massimo tre ora tra parentesi come potete vedere qui una ricerca di Gartner sottolinea come molte praticamente il 75% delle organizzazioni perlomeno di quelle di grosse dimensioni stanno ricercando un consolidamento della strategia dei propri fornitori quindi una limitazione del numero di tecnologie che hanno all'interno della loro infrastruttura quali sono le motivazioni per la ricerca di questo consolidamento sono essenzialmente quello dell'incremento dell'efficacia delle soluzioni meno fornitori ho idealmente se ho una sola tecnologia in rete ho sicuramente un livello di sicurezza molto più elevato per quanto riguarda l'interoperabilità delle varie tecnologie in campo altro motivo è quello della pervasività della sicurezza meno fornitori significa avere una sicurezza più estesa all'interno della rete sicuramente questo forse è la motivazione più logica e più facilmente compresa la gestione diventa molto più semplice meno piattaforme di management ho quindi se ne ho una due tre quattro indubbiamente molto più semplice per me gestire la mia cyber security piuttosto che in una situazione in cui devo gestire invece un numero molto più elevato di piattaforme magari anche disegnate e pensate con logiche molto diverse infine il risparmio dei costi tendenzialmente questo anche per motivi banali commerciali avere un solo fornitore a livello tecnologico comunque ripeto pochi fornitori a livello tecnologico rende come dire la dimensione dei deal e delle forniture più importanti e quindi è più semplice riuscire ad avere anche un pricing migliore e più aggressivo questo sicuramente è un'esperienza che abbiamo tutti e conosciamo tutti queste cose che vi ho appena raccontato si fondono se vogliamo in questa slide se avete già visto in qualche occasione magari i nostri eventi delle presentazioni fortinet sono praticamente certo che questa slide l'avete vista anche perché questa slide è immutata e rimane immutata da diversi anni e racchiude e diciamo riassume la strategia fortinet che è quella della security fabric che cos'è la security fabric è un approccio completo e pervasivo alla sicurezza quindi non più point products cosiddetti quindi non più singole tecnologie singoli prodotti singole soluzioni che si occupano di uno o comunque pochi aspetti della sicurezza ma una visione oristica queste tre caratteristiche che vengono indicate in questa slide della security fabric magari parliamone velocemente broad cosa significa una protezione e una visibilità dell'intera superficie d'attacco intera superficie d'attacco che come ben sappiamo negli anni si è molto estesa se un po' tempo fa la superficie d'attacco tendenzialmente era l'azienda quello che c'era dietro il firewall o dietro il router oggi ovviamente non è più così la superficie d'attacco si è estesa ad esempio alle case dei lavoratori insomma dei dipendenti visto che molti di noi se non quasi tutti noi abbiamo una modalità di lavoro spesso iubile quindi da caso dall'albergo quando siamo in viaggio quindi l'end point non è più solo in azienda ma è tra virgolette dappertutto e in più gli applicativi non sono più solo sul data center non ho più solo l'accesso al mio server in azienda dove c'è la mia posta c'è il mio file sharing c'è il mio CRM eccetera eccetera ormai molte di queste applicative se non quasi tutti sono in cloud e quindi sono posizionati al di fuori del perimetro aziendale integrated quindi parliamo di una soluzione la security fabric che riduce drasticamente la complessità di gestione anche grazie alla condivisione della threat intelligence la threat intelligence che per fortinet viene chiamata FortiGuard ed è un team tecnologico che analizza quello che succede nel mondo a livello di sicurezza e quindi rende aggiornate tutte le tecnologie fortinet alle anche nuove minacce zero day che praticamente giornalmente vengono scoperte da questo team infine l'automazione la sicurezza l'approccio alla sicurezza di fortinet è potenziato dall'utilizzo di tecnologie che oggi sono particolarmente all'avanguardia sulla bocca di tutti quali l'intelligenza artificiale e il machine learning quindi in questo modo viene garantito un livello di protezione oltre che superiore un livello di protezione soprattutto sulle minacce zero day che non richiede necessariamente o perlomeno non subito l'intervento umano quindi si riesce a ottenere un livello molto importante di cyber security completamente automatizzato dalle macchine quindi senza bisogno dell'intervento classico intervento del tecnico che avverrà sicuramente ma in un secondo momento questa se vogliamo è una slide riassuntiva delle tre principali tecnologie ambiti tecnologici scusate in cui Fortinet è presente parliamo di secure networking quindi tecnologie quali generation firewall lo switch gli access point l'SD1 e anche il NAC protezione dell'end point qui abbiamo diverse soluzioni dal FortiClient che si occupa delle point protection di base e delle gestioni della VPN o piuttosto che della ZTNA Forti ha anche la sua soluzione di autenticazione multifattore nonché anche una sua soluzione proprietaria di EDR infine la sicurizzazione la messa in sicurezza sicurezza scusate delle applicazioni cloud e dell'email qui abbiamo virtual firewall quindi scusate firewall che possono essere posizionati anche direttamente presso il proprio cloud provider piuttosto che la protezione di Microsoft 365 dedicata a Microsoft 365 piuttosto che in generale l'email security per qualsiasi anche altra piattaforma email sul mercato ultimo punto parlando di Fortinet punto secondo me estremamente valido e importante differenziazione rispetto al resto del mercato che a volte ci si dimentica è quello del security processor proprietario ora Fortinet tanti anni fa quando è iniziato fondamentalmente con la sua presenza nel mondo della cyber security ha puntato fortissimo su una progettazione in casa delle delle CPU fondamentalmente dei chip che monta sulle sue macchine questo come potete vedere da questi indicatori che fanno vedere la media dell'industria in confronto a Fortinet ha permesso delle performance decisamente più elevate a parità di costo se non addirittura in alcuni casi a costi inferiori ora Fortinet progetta e si produce tre tipologie di chip il network processor parliamo di una CPU che è la main CPU che si occupa delle funzioni di networking e state for firewalling quindi abbiamo il content processor che invece è il coprocessore che si occupa delle operazioni e risorse incentive come può essere la content inspection ad esempio o comunque in generale delle funzioni di security avanzate che richiedono molta capacità di calcolo e infine l'ultima soluzione che è quella che si trova sulle macchine ad esempio sui FortiGate fino all'80F 90G anzi la nuova macchina è il sistema nono chip quindi un chip che consolida entrambe le funzioni su un unico pezzo di silicio contenendo ovviamente anche i costi ora attualmente come vedete in questa slide siamo la settima generazione di network processor la nonna di content processor e la quarta di sistema non c in realtà questa slide non è aggiornatissima scusate perché è da pochi mesi che Fortinet ha annunciato e anche lanciato sul mercato con un prodotto al momento il mese prossimo saranno due il nuovo sistema non c quindi la generazione 5 che viene che ha cambiato nome tra l'altro non è più SOC ma SP questo già è montato sul nuovo FortiGate 90G ad esempio anche su alcune altre macchine non firewall e sarà presente anche sul prossimo firewall di uscita a breve di cui già un po' si parla che è il 120G che comunque verrà verrà ufficialmente presentato a listino credo nel mese di dicembre ora abbiamo parlato di Fortinet e del vendor parliamo un attimo di ExxSuite Network vedrò di essere veloce magari insomma se vi siete iscritti a questo webinar è anche abbastanza probabile ci conosciate perlomeno in parte ma ho il piacere diciamo ho l'intenzione di presentarvi qualche spunto qualche piccola qualche indicazione sulla differenziazione di noi di noi ExxSuite rispetto al panorama distributivo italiano internazionale prima di tutto qual è la nostra visione e di conseguenza qual è la mission aziendale che ci contraddistina la nostra visione è un mondo digitale totalmente affidabile per tutte le persone e le organizzazioni indubbiamente è una visione a lungo termine è una visione ambiziosa ma non è una una visione almeno secondo secondo noi impossibile è una visione a cui dobbiamo assolutamente tendere visto che ormai il digitale fa parte delle nostre vite a 360 gradi e avere un mondo cyber sicuro è indubbiamente una condizione fondamentale perché è sotto molti aspetti lo è già e comunque Exclusive continua su questa strada e continua a crescere questa è una slide con un po' di numeri della nostra azienda che onestamente non voglio leggervi e commentare subito se non proprio un paio di dati al di là della dimensione siamo un'azienda presente sia in Europa che in Nord America che in Asia Pacific e contiamo su un fatturato di 4.5 miliardi di euro quindi un fatturato molto importante questo è il dato ufficiale del 2022 e posso già dire che il 2023 vedrà una crescita di questo numero quando lo chiuderemo abbiamo presenza in 46 country come uffici e forniamo clienti in 170 country quindi fondamentalmente in tutto il mondo o quasi siamo ovviamente presenti in Italia con un ufficio a Milano un ufficio a Torino che poi è quello principale e abbiamo anche un ufficio a Roma dove sono presenti alcuni nostri colleghi commerciali siamo un training center questo secondo me è estremamente importante quindi siamo in grado di erogare in prima persona quindi non attraverso consulenti ma attraverso il nostro personale training di certificazione di N tecnologia e vendor tra cui ovviamente fortinet e infine vi sottolineo questa cosa perché vi posso assicurare io ho un'esperienza personalmente abbastanza lunga in distribuzione è un dato ed è un aspetto non comune abbiamo un rapporto a livello globale di 1 a 2 tra technical engineer e commerciali quindi nonostante siamo un distributore abbiamo un livello di know-how molto molto avanzato ed infatti quella che è la nostra vera differenziazione sul mercato è quella delle nostre competenze nello specifico ad esempio dei nostri professional services come potete vedere in questa slide che anche qui cercherò di analizzare in maniera veloce abbiamo come exclusivi e in prima persona la possibilità di erogare tutta una serie di servizi professionali che vanno dal advisory quindi dalla consulenza anche pre-progettuale quindi all'inizio di un progetto di infrastruttura di security siamo in grado come vi ho appena detto di fornire training di tutti i tipi siamo in grado anche di fare insieme a voi tramite il classico training on the job le prime installazioni quindi aiutarvi nell'onboarding in un nuovo partner con una nuova tecnologia caso specifico di cui parliamo oggi decidete di diventare partner Fortinet potete assolutamente contare su di noi per le prime installazioni per dei training on the job in modo che i vostri tecnici possano fare le prime installazioni anche con serenità e tranquillità appoggiandosi ai nostri che sono pluricertificati e sono in grado nel caso di Fortinet di erogare installazioni praticamente su tutte le tecnologie delle vendor ovviamente comunque al di là del training on the job possiamo anche installare le macchine andare a fare i delivery quindi sul campo per vostro conto col vostro cappellino quindi assolutamente in white labor e infine abbiamo anche tramite il nostro diciamo la nostra rete a livello internazionale di filiali exclusive networks la possibilità di fornire servizi anche a livello di maintenance per part e a livello praticamente mondiale o quasi mondiale qui abbiamo anche indicazioni di alcuni servizi professionali specifici tra l'altro anche in alcuni casi innovativi che forniamo ve ne parlo proprio di un paio di questi che sono qui elencati il partner pro ad esempio che è una vera e propria sottoscrizione che i nostri partner insomma i nostri clienti possono sottoscrivere con noi che prevede l'erogazione o l'accesso privilegiato a determinati servizi tecnici erogati da exclusive piuttosto che track down ad esempio che è un servizio all inclusive di vulnerability check quindi un servizio che noi andiamo a fare sui vostri clienti ovviamente insieme a voi tendenzialmente in white label quindi senza come dire col vostro cappellino col vostro logo per poter andare a a sviscerare qual è la situazione della di cyber security del vostro cliente quindi poter arrivare ad aiutarvi a dare delle raccomandazioni per una remediation di quanto è stato rilevato infine abbiamo un laboratorio cosiddetto exclusive networks power lab dove sono presenti tantissime tecnologie parlando di fortinet come potete vedere da molto banalmente dal da questa slide abbiamo praticamente tutte le tecnologie principali fortinet in campo quindi forti gate forti switch forti nac forti ms forti mail forti manager forti analyzer scusate forti api anche forti vlc infine l'ho aggiunto qua anche in un colore diverso visto che è abbastanza recente abbiamo anche la possibilità di mostrarvi di farvi toccare con mano la soluzione forti stasi di fortinet che è ovviamente basata in cloud fortinet quindi non all'interno del nostro dataset ora entriamo nel vivo o comunque più nella parte specifica della partnership fortinet come si diventa partner fortinet ora il programma di partner forti partnership fortinet come potete vedere da questa slide si chiama engage ed è attivo ormai da un po' di anni e ha raggiunto una certa stabilità per cui devo dire che non ci sono stati negli ultimi anni grossi stravolgimenti se non nel ultimamente nel nome e anche nella composizione in alcuni casi delle certificazioni tecniche delle persone comunque andiamo a bomba e parliamo di come fare per diventare partner fortinet ora prima cosa è recarsi qui sul su questo portale partnerportal.fortinet.com quando arrivate su questo partner su questo portale scusate se non siete già partner quindi non avete ovviamente una rovina password attiva potete cliccare su questo collegamento poi vediamo più nello specifico proprio tutti i passaggi che vanno fatti comunque si clicca su questo link e si fa l'application che poi vediamo a questo punto l'application arriva a fortinet fortinet ingaggia quello che è stato indicato come distributore di riferimento in questo caso nel nostro caso Exvive Networks e ci contatta e ci chiede una vostra profilazione ulteriore quindi tendenzialmente noi quando riceviamo questa indicazione da fortinet vi contattiamo e vi contattiamo col vostro commerciale di riferimento se ancora non ne avete uno abbiamo un team apposito che contatta i nuovi partner dopo aver fatto questa profilazione questa chiacchierata in cui forniremo ulteriori informazioni a fortinet c'è un ulteriore step che è quello del welcome kit il welcome kit è l'acquisto del welcome kit il welcome kit è un insieme di prodotti fortinet quello fisico consta di 40 gate 40 switch 40 ap che il nuovo partner acquista a uno sconto particolarmente elevato e che utilizzerà per per lab per lo meno nel primo anno di vita di queste macchine quindi fortinet giustamente direi richiede un certo commitment e richiede soprattutto che il partner metta le mani sui suoi prodotti e si possa quindi impratichire detto come ho appena detto che noi comunque come Exxedive possiamo supportarvi nella delivery è comunque e credo siamo tutti d'accordo necessario e auspicabile che il partner in prima persona il personale del partner sia in grado e conosca la tecnologia che va a vendere quindi il welcome kit l'acquisto del welcome kit non vuole essere una tassa ma vuole essere un modo per voi di di prendere confidenza con la tecnologia tra l'altro e dopo questo lo vediamo più tardi il welcome kit può essere utilizzato per un programma specifico che si chiama SITAP che è un programma di generazione di business quindi non è un investimento a vuoto ma è un investimento che vi renderà sicuramente poi vedremo come ora la registrazione sul portale come detto questo è lo screen della landing page di partnerportal.fortinet.com bisogna cliccare sul click here to apply che ho evidenziato in bassa sinistra cliccando su questo link si arriva a questa pagina vi viene chiesto per prima cosa il vostro indirizzo email una volta inserito potreste finire anche su questa pagina nel caso che il dominio della vostra mail sia simile a un eventuale partner già esistente e vi chiede in quel caso non è detto però che succeda se per caso siete dipendenti di una di queste di una serie di aziende che vi proporrà ovviamente se siete un nuovo partner non sarà così per cui dovreste procedere cliccando quest'ultima opzione che dice appunto che non che voi non siete già dipendenti di un partner esistente ripeto non è detto che questa pagina appaia potreste andare direttamente alla prossima che è questa quindi all'account registration come potete vedere vengono richieste delle informazioni assolutamente normali rispetto a voi stessi e all'azienda che rappresentate ripeto direi che questi campi sono tutti assolutamente più che intuitivi tra l'altro potete anche cliccare qui e duplicare l'indirizzo che avrete inserito nei vostri contatti personali senza doverli riscrivere ci sarà poi una parte di dati che dovete compilare a livello di company profile anche qui non sono domande particolarmente complesse o invasive ovviamente come sempre dove vedete un asterisco vuol dire che siete obbligati in qualche modo a compilare vi verrà chiesto preferire il distributo ovviamente io sono certo e mi auguro che inserirete su di network ovviamente questo per correttezza e anche per trasparenza ve lo dico anche per tranquillizzarvi il preferire il distributo non è l'unico distributore per cui voi acquistate o comunque siete legati a vita al nome che metterete qui ovviamente siamo in un mercato libero e potrete acquistare da tutti i distributori è semplicemente quello che direttate qua quello di riferimento per voi e sarà quello contattato per la vostra profilazione e per l'acquisto del welcome kit ora dopo questa parte in basso alla pagina dovreste selezionare il vostro business model ora di cosa si tratta Fortnite vuole sapere in che modalità avete intenzione di affacciarvi affrontare il mercato dell'utenza finale ora sicuramente diciamo la grande maggioranza dei nostri partner insomma di partner Fortnite seleziona perlomeno la prima che è quello del business model dell'integrator ok che è possiamo vedere come il business model classico di fornitura di prodotti e soluzioni all'utenza finale vi invito comunque a selezionare eventualmente anche MSSP o cloud se nel primo caso avete un approccio come managed security service provider nel confronto dei vostri clienti tra l'altro abbiamo tenuto un webinar sul modello MSSP e Fortinet di recente piuttosto che altro webinar che abbiamo fatto di recente sul cloud quindi se avete quindi un approccio al mercato di utenti finali di fornitura di servizi essenzialmente in cloud quindi potete selezionare una o più di queste opzioni ovviamente almeno una la dovete selezionare e tendenzialmente quando se ne seleziona una la stragrande maggioranza dei casi è l'intergrator in base a quante di queste spunte metterete poi vi verranno chieste ulteriori domande di approfondimento ma tranquilli sono le ultime rispetto al vostro business model di riferimento uno o più che siano anche qui come potete vedere non sono domande particolarmente complesse o invasive e siete arrivati a livello burocratico diciamo alla fine di questa trafila apparirà il Fortinet Partner Program Channel Agreement ora è un po' lungo magari da leggere online vi consiglio magari di fare il download delle Terms and Conditions e poi di leggervele con calma perché comunque contengono anche informazioni importanti su come funziona ad esempio la licensing Fortinet e quali sono gli obblighi di correttezza che Fortinet richiede ai suoi partner nulla di strano o diverso rispetto ad altri grandi vendor però consiglio sempre una letta a questo punto si clicca su I agree e la vostra application viene inoltrata e come vi ho detto prima arriverà a Fortinet che la inoltrerà a sua volta a quello che è stato indicato come Preferred Distributor ora quali sono i requirements per diventare partner Fortinet i requirements sono direi basici come potete vedere qua ho fatto vedere i requirements per l'integrator specifici in realtà sono molto 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 simili anche per MSSP e Cloud Business Model in quel caso ovviamente è richiesto nel caso dell'MSP che abbiate appunto un'infrastruttura di vendita MSSP in essere piuttosto che nel caso del Cloud che abbiate delle partnership a livello di Cloud Provider comunque sia nel caso dell'integrator come potete vedere per il livello base che è quello ovviamente con cui si entra nella partnership con Fortinet che è quello di Advocate i requisiti al di là del Fortinet Inclinator Questionnaire che è quello che abbiamo visto prima quindi la risposta di alcune domande online viene richiesto di avere un Valid Partner Agreement quindi di avere di avere accettato le condizioni di cui abbiamo visto prima e di avere essenzialmente questo un Certified Fundamental quindi avere una vostra persona che passa questo esame che è un esame online non richiede iscrizione a corsi a pagamento piuttosto che non è un esame di quelli proctored a pagamento si può fare dal sito di Fortinet è il vecchio NSE scusate 1 e 2 per capirci ovviamente avete un po' di tempo per farlo nel senso nel momento in cui fate l'application non è richiesto che passiate nel giorno 0 l'esame potete comunque farlo con un po' di calma ma ripeto è un esame veramente semplice tra l'altro è un esame di cyber security a livello generico quindi non prevede domande tecniche specifiche su Fortinet oltre a queste cose come vi ho detto prima l'ulteriore requirement quello magari un pochettino più importante perché richiede un esborso economico per quanto non esagerato è quello dell'acquisto del welcome kit quindi andiamo un attimo sul dettaglio e vediamo un secondo di cose composto il welcome kit scusate bevo un goccio d'acqua perché ho un po' di tosse allora il welcome kit quello fisico che è quello devo dire anche mediamente più acquistato dai nostri nuovi partner è composto essenzialmente da come potete vedere tre prodotti un forti forti gate scusate 60F che è il quasi entry level della gamma forti gate in realtà entry level è 40F comunque sia 60F ha un costo molto simile forti switch 124F poi e un forti ap 231F ora il forti gate 60F nello specifico oltre a essere un firewall leader di mercato e avere tra l'altro integrate le funzionalità SD1 è la macchina che scusate è la macchina che andrete a utilizzare per il setup di cui vi parlerò più tardi lo switch entry 24F poi è uno switch a 24 porte ovviamente a 1 gigabit con app link a 1 10 gigabit rame o fibra che sia e in più supporta il POE sulla metà delle porte presenti quindi fino a 12 porte e infine il forti ap 231F è un access point wifi 6 adatto per l'utilizzo in interno con antenne integrate e questo access point viene gestito direttamente dal forti gate 60F quindi non richiede un controller apposito ma il controller di questo access point è il forti gate stesso in alternativa si può usare anche il cloud forti ma andiamo più sul dettaglio tecnico tutte queste macchine quando le acquistate come welcome kit vengono acquistate in modalità nfr cosa significa significa che sono macchine che arrivano con un anno di servizi full già incluso nel prezzo e a zero praticamente non dovete pagare il forti care per capirci nelle sottoscrizioni per avere accesso a tutti i servizi forti guard passato il primo anno e lo dovete utilizzare come avevo detto prima per utilizzo laboratorio barra demo per i vostri clienti e per il sita di cui poi parleremo passato il primo anno potrete farne quello che volete a quel punto quindi potreste metterlo anche in produzione presso di voi piuttosto che rivenderlo anche a un cliente attenzione che però appunto passato il primo anno non avete più la parte di servizi di forti care attiva gratuitamente per cui se volete continuare a usarlo che sia per vostro uso interno o ancora più per la rivendita dovrete acquistare i servizi il rinnovo dei servizi ora oltre al welcome kit fisico abbiamo anche da un po' di tempo la possibilità di avere il welcome kit a livello virtuale ok il welcome kit a livello virtuale essenzialmente diciamo ci sono anche più di una possibilità però a livello di forti gate si ha la possibilità di prendere una virtual machine forti gate quindi una appliance virtuale e non fisica piuttosto che avete anche la possibilità di acquistare sempre a sconto nfr il forti client per l'utilizzo quindi del per testare quindi fare demo su tutta la parte di ztna e poi in protection e infine di recente c'è anche la possibilità di welcome kit di optare per i forti sase quindi per avere tutta per poter dimostrare e utilizzare in laboratorio tutta la parte di sicurezza pervasiva in cloud di forti anche qui oggi non parleremo di forti sase che è un argomento a sé stante vi invito però a registrarvi per il nostro webinar del 27 di novembre di prossimo in cui parleremo specificatamente solo ed esclusivamente di forti sase rimane poi comunque la possibilità dell'acquisto di access point e switch a corredo della parte di virtuale diciamo ora vi ho nominato un paio di volte prima il sit up e ve l'ho nominato come come dire un'opportunità di business legata al welcome kit che siete tenuti ad acquistare per diventare partner forti ora che cos'è sit up sit up sta per cyber threat assessment program altro non è che è un programma di assessment sull'infrastruttura dei clienti per individuare eventuali problemi piuttosto che vulnerabilità in coda a questo assessment viene generato un report di dettaglio su quello che è stato rilevato l'assessment viene eseguito sempre all'interno della rete del cliente quindi dietro il faglio del cliente proprio per rilevare le eventuali problematiche minacce dell'esiz quindi della sua infrastruttura attuale qua vedete in maniera schematica indicato come si svolge idealmente questo sit up si prende un appuntamento col cliente si fa il deployment si mette l'appliance forti gate il vostro 60f che avete acquistato nel welcome kit lo mettete in una modalità particolare di ascolto nel tecnicismo comunque fondamentalmente la macchina rileva quello che succede in rete non interviene in alcun modo e viene generato in automatico alla fine del periodo che normalmente se ricordo bene è di sette giorni un report completamente automatico nel senso che non richiede assolutamente che voi scriviate o facciate alcunché e a quel punto nel report adesso lo vediamo sono presenti anche eventuali suggerimenti su come rimediare alle vulnerabilità che sono state rilevate e vi dico che direi nel 99% se non di più dei casi delle vulnerabilità saltano fuori è quasi certo ora il sit up esiste di quattro tipi esiste la possibilità di fare quattro tipi di assessment in realtà col vostro FortiGate 60F del Welcome Kit potete fare questi due qui che vi sto evidenziando vale a dire l'assessment di Next Generation Firewall piuttosto che quello SD1 è possibile anche fare assessment sull'email in questo caso viene utilizzato un servizio cloud il FortiMail Cloud per effettuare l'assessment vero e proprio piuttosto che l'assessment sull'OT però nel caso dell'OT vi invito eventualmente a contattare FortiMail perché è un assessment in cui il partner non è come dire da solo autonomo ma va gestito insieme insieme al vendor ora il report che viene generato qua vedete gli screen di un report di esempio è composto essenzialmente al di là della copertina che riporta il nome della tipologia di assessment che viene effettuato in questo caso ad esempio quello Next Generation Firewall c'è prima un sommario che riporta i findings insomma quello che si è scoperto a livello principale quindi le principali problemi e vulnerabilità riscontrate all'interno della rete poi c'è tutta una serie di pagine in cui vengono analizzate nel dettaglio quello che è stato rilevato e scoperto e infine parte che a mio parere è la più importante di tutte quelle delle raccomandazioni cioè questo report automatico generato tramite sit-up fornisce anche delle indicazioni su come dei suggerimenti diciamo su come si potrebbe andare a sanare e a migliorare la sicurezza dell'azienda che è stata presa in esame quindi questo è uno strumento di vendita molto molto importante ha un successo a livello di appunto vendita successiva a un sit-up che è oltre il 75% per cui vi invito sicuramente se sceglierete come spero di diventare partner fortinet di sfruttare questo programma ora se volete però sapere di più a livello tecnico come funziona un sit-up perché giustamente si parla di mettere una macchina per quanti in ascolto comunque in produzione presso un cliente vi invito ad andare su questi due siti una volta che sarete partner e avrete una credenziale al partner portal potete andare su sit-up punto fortinet punto com e poi cliccare sull'help menu che vi porterà in una pagina con nmila comunque parecchi documenti tecnici sul sit-up piuttosto che sul partner portal cliccare sul sit-up menu che quando avrete accesso lo vedrete nei menu principali in questo caso le informazioni fornite saranno più di livello diciamo marketing rispetto a cosa potrete aspettarvi per quanto riguarda il sit-up ora direi che dovrei aver finito questa era l'ultima slide se non ricordo male esatto questa è l'ultima slide vedo che ci sono un paio di domande per cui vado subito mentre metto la prima slide rimetto questa perché riporta anche i miei contatti quindi nel caso comunque non rispondessi completamento o abbiate delle domande vi invito sicuramente a approfondire o col vostro commerciale di riferimento nel caso ne abbiate già uno piuttosto che scrivendomi direttamente ora vediamo se riesco se riesco a vedere perché ho qualche problema perfetto scusate ritorno sulla slide ma ho avuto piccolo problema con il doppio schermo perfetto allora allora leggo la prima domanda qual è la politica Fortinet per l'iscrizione dei partner quando un partner ha già una pratica commerciale di sicurezza con un altro concorrente di Fortinet ma vogliamo espanderci offrire più scelte ai nostri segmenti di mercato ma allora la politica Fortinet è assolutamente di apertura nel senso in alcun modo non è né necessario essere partner di un concorrente né è un problema essere partner anche di un concorrente ok in maniera molto trasparente non c'è alcun problema o preclusione anzi molti partner Fortinet comunque abbracciano più di una tecnologia di security perché parliamoci chiaro a livello commerciale è sicuramente un plus anche nei confronti di utenti finali avere comunque più freccia proprio arco quindi non è assolutamente un problema d'altra parte sempre per e rispondo magari a un'efficiale seconda domanda non è neanche un facilitatore nel senso che comunque il fatto che viene richiesto che una persona faccia questo esame online che ripeto comunque è un esame commerciale per diventare ad hoc piuttosto che l'acquisto del welcome kit è comunque richiesto in ogni caso anche se come dire anche se il partner ha già una parte anticipativa magari anche di alto livello con un brand concorrente ora qui ho un'altra domanda di un altro partecipante che mi dice che ha già fatto la domanda ma non avete mai ricevuto alcun feedback parliamo in questo caso di un partner con sede a Malta a Malta scusate ma allora a questo punto io invito questa persona adesso non sto a fare nome e cognome ma di privacy assolutamente a contattarmi o a contattarci se avete già se hai già mi permetto di darti del tu un contatto commerciale presso di noi vediamo di capire ora noi così come anche fortinet serviamo anche il mercato di Malta perché Malta non ha distributori fortinet non ha distributori locali a Malta né exclusive né distributore con sede a Malta ma forniamo direttamente dall'Italia per cui saremo comunque noi siamo responsabili e gestori di questa cosa ora non so cosa è successo a questo punto sicuramente vediamo di capirlo e invito quindi chi ha scritto questa domanda nel Q&A di contattare me o il suo commerciale di riferimento e andiamo più in profondità insomma per capire questa cosa potrebbe anche essere successo che per qualche motivo la richiesta si sia persa da qualche parte vediamo di capirlo appunto ripeto ora non vedo altre domande per cui mi congelo da voi e vi saluto vi ricordo che riceverete comunque a brevissimo nel giro di un paio di giorni due o tre giorni sia copia di questa presentazione che avete visto sia la registrazione di questo webinar in modo possiate eventualmente se lo ritenete necessario condividere con i vostri colleghi a questo punto non mi resta che augurarvi buona giornata e sicuramente vi do appuntamento ai nostri prossimi webinar in particolare con Fortinet il prossimo è lunedì 27 dedicato a Forti Sase ci sarà anche oltre alla spiegazione commerciale una demo tecnica del prodotto per cui ve lo raccomando sicuramente grazie a presto grazie a tutti